Germania. Discovery 4. 12, 15 settembre 2018. Saluti miei cari, io sono Crayon del Servizio Magnetico. Questa è la quarta canalizzazione della serie, e proseguiamo dalla numero 3 e riguarda la vostra capacità di ricevere amore. Cari miei, la verbalizzazione fa davvero la differenza in un essere umano. La formulazione di cose che sono immagini di ciò che desiderate creare. La formulazione dell'intento è estremamente importante, è il fondamento delle affermazioni. Ora, quelli che sono esoterici sanno che le affermazioni funzionano. Le affermazioni parlano a ciò che abbiamo chiamato innato. Il corpo intelligente. È lo stesso sistema dell'omeopatia e della kinesiologia. Ed un tratto l'innato riconoscerà quello che viene formulato e darà risposte. L'innato seguirà le istruzioni, è una bellissima cosa vedere il corpo umano all'opera. Questa è ciò che chiamerò una meditazione attiva. Una meditazione normale è quando sedete e meditate, una meditazione guidata è quando sedete e qualcun altro vi guida nei pensieri che potete fare, una meditazione attiva è quando venite guidati in un processo che fa qualcosa dentro il vostro corpo, e avete l'opportunità di lavorare, lavorare con l'innato. L'innato è bravo a darvi segnali di sì e di no, non è vero? È il fondamento del test muscolare, e funziona con le affermazioni. Miei cari, questo specifico messaggio è in tre parti, ogni parte ha due sezioni, e rappresentano una delle più profonde verità sul pianeta. Tre cose, e ogni sezione di queste ha una verità e poi il modo in cui viene presentata oggi. E in ogni sezione farete qualcosa, quando ve lo dirò, formulerete una frase nella vostra lingua, questa frase avrà energia, questa frase aprirà il portale della verità e della menzogna dentro il vostro corpo. Con il vostro permesso il vostro innato si aprirà e vi darà dei messaggi. Vi darò la frase adesso, una frase che potrete dire, e la diremo insieme. La frase è questa. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. Lo dico di nuovo. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. C'è una differenza miei cari, tra la parola amore e perfetto amore. Gli esseri umani hanno spesso utilizzato la parola amore in molti modi diversi, e quando si tratta all'amore di Dio, qualche volta è una parola disfunzionale, come vedrete. Ma l'amore perfetto di Dio, questo è un amore che proviene dalla sorgente creatrice, non ha genere, è incondizionato e conosce il nome della vostra anima, e infatti, voi siete qui seduti in questa sala ascoltando adesso. Quindi, insieme prima di iniziare, vorrei che proviate questa frase con me, e prima che lo facciate ve la ricorderò di nuovo. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. Non voglio che lo borbottiate, voglio che gli altri ve lo sentano dire. Tutti insieme nella vostra lingua. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. Come ci si sente? Alcuni di voi avranno i brividi adesso, perché il vostro corpo è pronto, l'entourage in questa sala è pronto, per aprire i portali della verità. E quando questo avviene c'è la possibilità di cancellare letteralmente la falsità da tutto quello che conoscete. Eliminare la menzogna dalla vostra mente. Sezione 1. Ecco la verità duecentomila anni fa, o giù di lì. Qualcosa accadde su questo bellissimo, bellissimo pianeta. Una rappresentazione persino del giardino dell'Eden non sarebbe stata così bella. Incredibili e bellissimi esseri angelici visitarono questo pianeta, arrivarono nella forma femminile che è molto tipica anche degli angeli che vedete oggi, e cambiarono l'essere umano. È la vostra storia di Adamo ed Eva, miei cari. Presero gli esseri umani che erano qui e diedero loro un'anima. Modificarono la loro stessa biologia, da 24 coppie di cromosomi a 23. Diedero loro una ventiquattresima coppia cromosomica che era multidimensionale. Biologicamente erano visibili solo 23 coppie, a differenza di qualsiasi altro mammifero sul pianeta, l'essere umano ricevette un'anima, e il libero arbitrio. E questi bellissimi esseri angelici arrivarono e fecero questo su dodici magnifici luoghi sul pianeta. Per volontà della sorgente creatrice questo fu fatto nell'amore. E questi esseri angelici rimasero con voi. E quando fu il momento, iniziarono a distruirvi. La verità fondamentale, l'essere uno di Dio. E rimasero, rimasero. Uno dei luoghi più intensi fu il continente molto piccolo chiamato Lemuria, dove poterono rimanere per molti molti anni perché era un'isola e non era influenzata da fonti esterne. Che storia! Questa è la storia della creazione dell'umanità e viene ancora insegnata oggi. La versione 2, vi verrà data tra un momento ma lasciamo consolidare la verità di questa versione su come avete iniziato prima di dire questa frase con me, e l'innato del vostro corpo prenderà una decisione. Siete pronti per dire la frase di nuovo? Non sottovalutate il potere di questa affermazione. Non ditela a meno che non la intendiate. Ed eccoci qui, tutti insieme per favore. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. Oh, e l'entourage risuona della vostra accettazione. Lasciamo qui quello che vi è stato detto essere accaduto. Ecco la seconda sezione della versione 1, della sezione 1. Circa 200.000 anni fa siete stati visitati da un essere angelico forse in forma femminile, ma è incerto, dal momento che non ci sono registrazioni. In questa bellissima energia del giardino dell'Eden, gli esseri umani ricevettero un'anima, un sé superiore, ricevettero il libero arbitrio. Suona simile non è vero? E poi qualcosa accadde. Secondo la storia che avete ricevuto, qualcosa accadde, uno degli esseri umani commise un errore rompendo le regole. Ed immediatamente l'angelo disse, hai fatto qualcosa di sbagliato e hai preparato il terreno per tutta l'umanità. Ogni essere umano che nascerà da questo momento in poi sarà indegno a causa di quello che hai fatto. E poi l'angelo se ne andò. E quindi voi avete un bellissimo Dio che vi dà libero arbitrio e poi vi giudica per le scelte che fate. Questo non è amore perfetto. Non è amore perfetto. Questa è la storia che avete. Adesso diremo di nuovo la frase e il vostro corpo vi dirà se ciò è vero oppure no. La stessa frase, perché l'anima che siete voi sta per reclamare il potere di ricevere il vero amore perfetto. Ditelo con me. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. Avete appena dato al vostro innato due versioni, una con la quale siete cresciuti e una che vi ho dato io. Una all'amore perfetto. E una, cari miei, è stata inventata da un essere umano. Come vi sentite fin qui? La verità fondamentale della vostra creazione è magnifica. Non è piena di indegnità, o giudizio come vi è stato detto. Scenario 2. Vi do qualcosa che è vero, lo chiamiamo epoca attuale. Gli angeli che vi aiutarono nella creazione sono ancora qui, a volte vi appaiono a volte no. Loro sono aiutanti, sono guide, sono tutte femmine e rappresentano le bellissime madri della creazione e sono tutte pronte per prendere la mano della vostra anima e guidarvi attraverso questo cambiamento. Sono sempre pronte a prendere la vostra mano in modo che voi possiate sentire l'amore perfetto di Dio e riceverlo in maniera grandiosa, una maniera di magnificenza, che cambia la vita. Come vi sembra? Confermiamolo oppure no, dicendo la frase con me. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. C'è un'altra versione per oggi. Voi siete nati indegni e siete ancora indegni per via dell'errore che è stato fatto duecentomila anni fa. Non siete degni di vedere il volto di Dio, e gli angeli. Beh, loro vanno e vengono. Ma è interessante quello che avete fatto con questi angeli, avete reso alcuni di loro maschi, oh, oh e quelli maschi sono quelli importanti. E la fine sta arrivando, la fine sta arrivando. Perché l'essere umano è talmente orribile, così brutto e ha gravemente peccato che dovrebbe essere portato via da questo pianeta, e i leader spirituali del pianeta si stanno ancora aspettando questo, ogni giorno. In qualche modo, vi è stato detto che Dio vi deve salvare dalla miserabile cosa che siete. Facciamo il test muscolare con l'innato su questo, dite con me. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. Dovreste sentirlo, ciò che è vero e ciò che non lo è. E dicendo questo al vostro innato, molti di voi in questa sala, hanno appena eliminato questa menzogna dalla loro mente, della loro fisionomia, dal loro cervello, così avete capito che non dovete essere perdonati per niente. Adesso siete in grado di perdonare voi stessi per aver creduto cose che sono talmente irrazionali, da parte di Dio. Solo un Dio disfunzionale avrebbe potuto darvi questo altro scenario. E questa è la terza sezione, il futuro. L'umanità sta attraversando questo cambiamento. Questo cambiamento di energia che chiamate la precessione degli equinozi, un cambiamento predetto dagli antichi, non dalle vostre attuali profezie ma dagli antichi. E le cose sul vostro pianeta stanno cambiando e voi le state vedendo cambiare. L'integrità sta per acquisire un ruolo di primo piano e lo vedrete. La trasparenza sta iniziando a farsi vedere e ad essere richiesta. I sistemi collasseranno perché non hanno integrità. Le cose oscure e negative stanno iniziando ad essere mostrate ed eliminate, state per iniziare a vedere qualcosa che non vi siete aspettati. Un'evoluzione della coscienza è nei vostri notiziari, cari miei, nei vostri media. Potete aiutare questo e vederlo, non avete mai visto niente come questo prima. L'umanità si sta risollevando dall'oscurità, ditelo con me per favore. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. Potete anche aggiungere. Io sono nel posto giusto al momento giusto. E qual è la versione che persino oggi vi è stata insegnata, ed è stata insegnata ai vostri bambini, qual è il vostro futuro? Siete pronti. Non ne avete uno. Le profezie dicono che non ne avete uno. Naturalmente la guerra sta arrivando ed è stato sempre così. E adesso con le armi nucleari non avete alcuna possibilità, è sicuro dirlo ai vostri bambini, per via di quello che quell'umano ha fatto tanto tempo fa con un albero una mela e un serpente parlante, non avete possibilità. Quanto vi piace fin qui? Ditelo con me per favore ancora una volta. Io accetto l'amore perfetto di Dio, io sono profondamente amata. Voi avete appena cancellato con successo la programmazione, perché l'amore di Dio che è perfetto è parecchio oltre una menzogna disfunzionale. E anche per quelli di voi che hanno ascoltato queste cose stasera per la loro prima volta, magari, avete la possibilità di pensarci su, avete davvero la possibilità di pensarci su. Questa è la bellezza di ciò che insegniamo. Un essere umano che è nato magnifico adesso ha la possibilità di tirarsi fuori della mitologia che dice che invece non lo eravate. Usando il potere dell'amore di Dio come catalizzatore per il vostro innato, potete conoscere la verità. E in questo momento non c'è niente di più da dire, e alcuni di voi possono voler rimanere un momento e celebrare quello che è appena avvenuto. Perché alcuni di voi lasceranno questa sala molto più degni di come vi siano entrati. E così ere.